Un dramma cosmico a 60 anni luce dalla Terra, un mega flare di una stella ha strappato via l'atmosfera di un pianeta. Questo pianeta grande quasi quanto Giove, molto vicino alla sua stella, tanto che le temperature raggiungevano anche e oltre i mille gradi centigradi, è stato osservato dai telescopi Hubble e Spitzer. L'ondata di radiazione che ha portato via parte dell'atmosfera di questo esopianeta è stata osservata da un gruppo di ricercatori internazionali guidati dai francesi del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica. Naturalmente queste immagini sono una ricostruzione grafica, giusto per dare un'idea di quello che è accaduto lassù, tanto lontano da noi eppure. Grazie, alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie.